ciao a tutti settimana scorsa ho finito il programma di pliometria mi sono preso una settimana di riposo senza fare nessun particolare sforzo e adesso ricominciando a introdurre la fase di forza e farò un mix dei due, farò un pochino pliometria e un pochino forza vedrete, 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 vedrete proseguiamo con un box squat con 13 kg zavorra ora salti pliometrici 3 6 da 3 non tante perché ogni ci mazzano attenti della childe quindi non voglio sforzare più tanto, tant'è devo fare solo poche ora qualche singola ok ora comincia la fase di forza vera e proprio stacchi a terra 162 kg grazie da te ok 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 me la sentivo quindi ho messo 164 in posto per 162 ok 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 Grazie a tutti